ciao a tutti ragazzi siamo in questo nuovo video del posto Tony Hamsky 17 andiamo a fare LTS oggi vediamo un attimino ecco qua runners contro Z intorno adesso siamo noi che siamo i runners no volevo prendere un po' di pistolette vabbè fa niente andiamo 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 vediamo un pochettino è tornata di nuovo la neve su GTA che stanno a fare questo oh non mi spingi non mi spingi non mi spingere possiamo andare non lo so questo si è cappottato andiamo 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 ragazzi con la neve però salta 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 poi più avanti no aspetta 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 dove sto qua poi più avanti porterò un po' di video delle mie gare che creo tipo parkour LTS gare stunt gare parkour adesso voglio fare provare questa LTS andiamo 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 dov'è dove sto qua vai 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 no e il toffolo e là che mi aspetta quello lì gli altri sono già arrivati alle armi ok proviamo ma stanno aspettando tutti i messi qua e noi ce la suoniamo un po ce la suoniamo e ce la cantiamo con la bella musica dai oh ma state aspettando me cosa vuol fare se qua questi capelli verdi corri voleva cittare oh salta bello non ci credo io penso che sono uno dei pochi che che hanno buttato giù il container e sono caduto no eh vabbè ormai la fine è segnata se riesco a salire nel container no eh vabbè eh vabbè dai ragazzi primo round speriamo che hanno preso le armi gli altri no niente non sono mai arrivati mi sa già che ero l'unico vabbè andiamo avanti secondo round ora siamo noi che abbiamo l'azio intorno allora vediamo un attimino qua ci sono solo macchine rosa o azzurre cioè rosa o azzurre vediamo un po io mi prendo l'azzurra azzurra cosa è non è proprio azzurra la prendo l'ho sfiorato e questo è il momento no troppo ho anticipato troppo ora 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 preso e mi ha dato la kill a me è come giusto che sia allora gli altri gli altri gli altri gli altri gli altri sono ancora là sono ancora l'inizio eh vabbè dai ti rilacrimoni vieni avanti dai vieni avanti cretino che a me mi viene da ridere prendilo 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 no io ci credo no si scivola di brutto sulla neve la macchina come è nel container si che fai io no ma come ho fatto a lisciarlo prima cioè vai spunta un po' fuori con la testolina no è caduto da solo benissimo è benissimo è caduto da solo c'è ancora uno l'ho preso bello questa è stata una bella bellissima lo vedo proprio bene bella bravo non gira la macchina quanti c'era ancora c'era ancora uno dove è sto qua c'è all'inizio no rimane la rimane la allora ho ho sicuro è il round vincitore bella ragazzi andiamo a fare il terzo round ora siamo di nuovo noi runners speriamo di andare a prendere le armi speriamo di arrivarci devo prendere un po' più pistolette però perché prima l'ho presa una e poi sono sceso prendiamo un'altra pistoletta vai pistoletta oh raga non mi fregate tutte le pistolette però eh ok si è messi in furtiva da solo ok andiamo via un bel salto qua dai ragazzi su andiamo a prendere le armi dai dove sono vai 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 che sei ribaltato vai no no uno sta arrivando adesso uno sta arrivando adesso dai 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 buttati nel container vai vai ora no no come sono caduto vai 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 corri 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 e siamo di nuovo qua no ho sposto di che fanno passare davanti tu dai ti do l'onore vai bravissimo sei troppo forte ce l'ha fatta pure grande non ho visto nella minima pa no no sono stato stupido ragazzi l'ho sbagliata io questa questa l'ho sbagliata io andiamo a ammazzare quello la no ragazzi ho sbagliato io sono stato proprio un pirla no sbagliato di brutto ragazzi era giusto così dai era giusto così non l'ho visto guardavo 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 avanti non e dalla minima pa non lo non l'ho visto ho preso il buzzer speriamo che best tom 005 ci salvi questo round perché togli Amsic è morto proprio da subito mi spiace dirlo ma è così quanti? ce n'è due ancora? si, due dai boss non so no 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 dove vai oh oh figliamo che lo sta facendo ma cosa fai? ma prendi il carro armato bravo no guarda che cadi lì vuole giù bravissimo sono davanti via te vai 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 sono sopra sono saliti spara sì uno l'ha preso? si 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 li ha presi gli ha presi round vincitore ultimo round dai ragazzi dovremmo essere mi sembra 2 a 1 adesso non mi ricordo mi sembra 2 a 1 per noi ok ragazzi più avanti porterò tutte le mie attività che ho creato porterò un po' di video sulle attività che creo così vi farò vedere anche un po' le creazioni che che faccio ok prendiamo la macchina rosa dai stavolta via dai che ce ne frega a noi che ce ne frega che ce ne frega che ce ne frega che ce ne frega che a posto a fino ci hai messo là passa 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 che ce ne frega sono tutti che stiamo volando di sotto tutti che stiamo volando di sotto andiamo andiamo che si passano arrivando alle ali no ha citato quello lì un mio compagno bella e ha citato anche toni però se riesco di bravo no chi è che mi sta dando fuoco ah perché c'è uno già là ma è impossibile no non c'ho le pistolette devi ammazzare qua bravissimo ma no ma no non si rompe sa fare non ci credo no ma chi è che ci sta dando fuoco qua ma vedi quello lì mazzalo grande bellissimo round questo ragazzi e abbiamo terminato questo lts se vi è piaciuto questo video commentate lasciate un like fate cosa volete e e e e e e e